Salve a tutti ragazzi, sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera dell'anatore con l'FC Andorra Episodio fondamentale perché, guardate dove siamo, calendario, ci mancano due partite alla fine di maggio e quindi alla fine del campionato regolare Dopodiché, a seconda di come andranno queste due partite, il futuro ci riserverà O, visto che siamo a due punti dalla qualificazione diretta in Liga, potremmo avere appunto la qualificazione diretta oppure ci toccherà giocare in playoff Siamo pronti, i playoff sono sicuri, matematici, non ci dovrebbero essere problemi, dobbiamo semplicemente giocare a queste due partite in maniera tranquilla In maniera... come sappiamo fare raga? Perché abbiamo dimostrato quest'anno, e le sfidanti sono comunque alla nostra portata Abbiamo dimostrato quest'anno di avere anche un bel gioco a tratti, eh? A volte abbiamo fatto veramente cacare, ma a tratti abbiamo avuto anche un bel gioco Quindi, signori, siamo pronti per andare in campo Vi avverto solamente che alla fine di questo mese dovremo votare il migliore E ci metterei dentro, nel caso dovessimo fare i playoff, anche i playoff, quindi farei migliore di maggio più playoff Alla fine comunque della stagione bisognerà fare la votazione anche per i team of the air Quindi ci rivediamo magari alla fine dell'episodio per capire meglio cosa fare Io mi metto le cuffiette all'orecchio Se non vedete la maglietta dell'Andorra è perché sto facendo il traslopo nel mio nuovo studio, quindi non so neanche... Cioè, in realtà è lì, ma non posso appenderla, non ho la gruccia, non ho niente, quindi... Abbiate pazienza Sono un po' teso, sono sincero, sono un po' tesino Alto a tesino, mi verrei... Vabbè, adesso... cazzate Ho letto dei commenti dove dite belle parole per quanto riguarda VAD Che da quando si è infortunato Bamba sta facendo davvero molto molto bene Sono teso, si vede o non si vede, si vede o non si vede, si vede o non si vede Direi di non perdere altro tempo Andiamo in campo, signori, sempre sul pezzo e forza FC Andorra Fortunatamente poi abbiamo un giocatore in panchina che ogni volta che entra spacca Ovvero il nostro buco Il nostro buco Bushard Che ha vinto il migliore del mese, dello scorso mese Ah, ho fatto una cazzata Ti prego pastore corri Oddio mio, mamma mia, mamma mia, mamma mia Ha vinto lo scorso, il player of the month dello scorso mese E che in realtà è pure in lizza per questo Quello è da rosso, signori Marmol, marmol, cosa ci fai lì, marmol? Dagliela dietro FAD Con la schiappettata Con la schiappettata di mancino di VAD Un discorsino secondo me se lo merita Angulo Che per me in quella posizione Non è proprio la sua posizione Secondo me la sua posizione è Dietro la prima punta Qual è il problema? Qual è il problema? È che in realtà siamo un po' pieni in quella posizione In quella zona del campo Angulo però Per potenziale meriterebbe di essere Titolare Pastore Pastore, mamma mia ragazzi Senza pastore che cacchio saremmo stati quest'anno? Ancora lente Siamo verso il finale di stagione Io mi sentirei comunque di dire Due parole C'è una nostra linea In fase difensiva Perché quest'anno è stato un disastro In alcuni frangenti della stagione Ma Per altri Senza questi ragazzi Saremmo veramente Allo scatafascio Ci vuole un guizzo Ci vuole un guizzo Questo guizzo ce lo potrebbe dare Valera Guardalo Tira, tira, tira di prima Ma perché tirate così ragazzi? Che cosa è successo? Qualcuno vi ha fregato il talento? Come in Space Jam? Orei Orei No Bravo Lende Con la stecca Allora cambi Buco Buco Ammirandes non hai più niente da dare al campionato Te prego Scansati Te prego scansati Occhio 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 Aurei Facciamo entrare Carrasco Ecco Un discorso su Alvarez È che sicuramente ha fatto Un Una Prima parte di stagione Da fenomeno E poi Una seconda parte di stagione È così Rivedibile E Non so se È colpa sua O è colpa del Guarda Sto controllo Novoa O è colpa degli aggiornamenti Di gioco Novoa Novoa Sì Siamo Ci siamo ancora Novoa Ci siamo ancora Novoa Alla Holland Signori Bom Liscio Lisciato completamente Il pallone Alla Erling Holland Novoa Alla Erling Holland Un mancino strepitoso Eccolo il guizzo che ci voleva L'abbiamo subito ripresa E comunque sì Se dovesse arrivare un top team Per chiedere Novoa Purtroppo ragazzi Non lo so Perché in realtà Il migliore dell'anno Sarebbe Incedibile Tecnicamente Era quella la mia idea Renderlo Incedibile Parliamone L'abbiamo recuperata Bravi Vole andare Fai andare Bouchard Fai andare Bouchard 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 Oddio Dove scappi Bouchard Zio prete Pareggio Eh bisogna Bisognava vincere Questa Questa parita Ce l'ha giocata L'emozione Purtroppo Ce l'ha giocata L'emozione Ce l'ha giocata L'emozione Bouchard Entra sempre Con un Buon piglio Però Ha 16 anni Cioè A 16 anni Non possiamo Chiedergli Che faccia i miracoli Andiamo a vedere Un attimo Come la faccenda Perché qui Abbiamo Abbiamo Ci dobbiamo giocare Anche la prossima Con il Las Palmas Abbiamo 3 punti Possiamo ancora sperare Perché Pettersen Cosa sto facendo Io con Pettersen Sto trasformando In attaccante Che fa 2 punti Però mi avete detto Che ha più difesa Che attacco E Pettersen È un difensore centrale Mette 10 settimane Ecco Nicola Bonetti Di VAD nessuno ne parla Ma è stato un grande acquisto E lo sta dimostrando Ancora di più Da quando si è infortunato Bamba Il prossimo anno In realtà potrebbe essere Da Bouchard Da Crosciarda Un attimo Il prossimo anno Potrebbe essere Assolutamente Un Un Centro Non dico un centrocampo Titolare Perché punterai magari A prendere un Mediano Molto molto forte Però Dobbiamo sicuramente Tenerlo in considerazione Più di Molina Che ha un buon overall Però In game Non sento Bella la nazionale Della Finlandia Caspita In game Non sento Un gran feeling Con Con Molina Si è attraversato Un buon periodo di forma Ah vecchio Cioè Io oggi tento Un Iabresti Titolare al posto di Angulo Andiamo così Andiamo in capo ragazzi Sempre sul pezzo Forza FC Andorra Ce la dobbiamo giocare Molto velocemente Queste partite Perché se poi abbiamo I playoff Sono abbastanza convinto Che non riusciremo A concluderlo Poi in questo episodio Però Almeno riusciamo A giocarcene un'altra Io me la sento Un po' di tensione Mannaggia la miseria Mi faccio prendere Troppo Mi faccio prendere Mi sbaraglia anche Iabrest Di schiena Ti prego Dobbiamo sfruttarla Mamma mia Badia Schill Non era un difessore centrale Badia Schill Dai Iabrest Dai Iabrest Devi staccarli Devi staccarli Devi staccarli Andy Hortor Ti fa l'arca io Attenzione Iabrest Vai 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 Corri corri Chi se ne frega Sei da solo Non è importante Non ci credo Bravo Sì 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 Mi piace Mi piace però Che se perdiamo il pallone Luttiamo per andarlo a riprendere Mi piace Sia Iabrest prima Castro poi Tanta roba ragazzi Bravi Vi voglio bene Mamma mia Pastore poi VAD Con un intervento Degno di Del miglior Serial Killer Calcistico Guardalo Ma nonna mia Ma che buchi trovano Pastore Pastore VAD VAD Che lo tampona Non mi avrete Non avrete Il mio culo Bravo Prova la VAD Mamma mia Ancora Badia Shield Mamma Finalmente Alvarez Finalmente Alvarez Andiamo col cambio C'è Castro Che mi sta un attimo Mollando Non so Andiamo con Angulo Qui Signori Possiamo chiuderla Ancora Badia Shield Che para Sembra pari a caso Mamma Lende Ma che intervento è questo Non ha senso Diabres Bello Angulo Bella Bossa Vabbè L'ha fatto anche abbastanza brutto Valera Nel senso Che l'ha messa là Così Così Badia Shield Non c'è neanche il rischio Di fargliela parare I fasti Dell'angulismo Puttanica Ragazzi Che gol Buon Pietro Buon Pietro Ok perché siamo un po' fuori posizione Ma c'è Alende Il signor Alende Finisce qui signori Un grosso Un grosso applauso Per la nostra stagione Regolare Comunque Vada Comunque andrà Questa stagione Questa nostra prima stagione Tra l'altro In serie B spagnola Devo dire che è stata Assolutamente Positivissima Alti e bassi Ma Nel complesso Positiva E Abbiamo qualche rimpianto Abbiamo qualche rimpianto Quindi Capite che Il lavoro che è stato fatto Con l'utilizzo di giovani Quelli già presenti Nella scuola dell'Andorra Secondo me è stato Super super positivo Ora non vedo Quanto ha fatto il Las Palmas Ha pareggiato Quindi niente Peccato ragazzi Ci tocca fare i playoff Ci tocca fare i playoff Eh sì Eh sì Eh sì Tenerife-Andorra Mannaggia la miseriazza Mannaggia Arriviamo terzi Arriviamo terzi A un punto Dalla Spalmas Proprio il pareggio Contro il Mirandese Incredibile Incredibile Però questa è la nostra stagione finale 85 gol fatti Abbiamo segnato Da morire Abbiamo subito anche molto Abbiamo subito tantissimi gol Solito problema Un po' che si riscontra Nelle mie carriere Tanti gol Segniamo tantissimo Proprio tanto 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 E E subiamo anche molto Direi di andare a vedere un attimo Anche le statistiche Dei giocatori Perché abbiamo Chiaramente Non la Coppa di Spagna Ma bensì Silla e Novoa 25 gol a testa Novoa in 41 partite Silla in 38 Reti inviolate Il nostro Alvarez E a 7 Assist Andorra Ne abbiamo addirittura 3 Nelle prime 3 posizioni Angulo Novoa Valera Molto molto bene Avendo segnato così tanto Era Era immaginabile Quindi siamo contro il Tenerife Cazzo ragazzi Il Tenerife Non è semplice Andiamo assolutamente in campo Anche loro sono un pelo Sono un pelo stanchi Anche noi Siamo un pelo stanchi Non faccio troppi cambi Vado con Orejana E Mettiamo Peli e Lali Anche se ha un pelo fuori forma Fa lo stesso Per il resto Direi che ci siamo Andiamo in campo così signori Sempre sul pezzo Forza FZ Andorra Olè ragazzi Ci siamo La partita più importante Della stagione Probabilmente Anzi Sicuramente Approcciare bene questa È fondamentale Soprattutto Penso Ci siano anche i gol in trasferta Ma perché ve lo dico Perché ho fatto i playoff Con il Pisa In serie B italiana E c'erano i gol in trasferta Bravo Alvarez Quindi Occhio Non so come funzioni qui Secondo me ci sono Buona Buone 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 Buona 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 Sarebbe male Se Carrasco Corresse anche Ma perché a volte Se bloccano In questa maniera Buona Buona Bella Bella Suriano Grande parata Uno schema Ma vaffanculo Siamo fragili Come delle Cacchine Cioè dai ragazzi Ma un po' di grinta Capito che siamo giovani Però un po' di fisicità E poi in Liga ci massacrano In Liga ci massacrano Poi Con l'occasione Per dirlo che Il prossimo anno Di certo Non puntiamo All'Europa Se dovessimo andare In Liga Ci sta anche Un campionato Molto complicato Prima di tutto Si punta alla salvezza Fallo andare Fallo andare Fallo Mamma mia Mamma mia Castro Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ci stiamo cagando addosso Mamma Alvarez Si tiene a galla E' una bella partita Decisamente una bella partita Complicatissima Ok Oriana C'è spazio di là Novoa Eccolo Carrasco Servito col destro Ha parato Soriano Non so come Non so come Ma questi gol bisogna farli Non so come abbia parato Raga Una parata Senza senso Incosciente Soriano È un'incosciente Vai mettila Non c'è nessuno Tutti che escono dall'area C'è povero Marmol Che non ce la fa più Non ce la fa più Sta cippa di minchia Mister Sta cippetta di minchia Marmol dice Allora però Dobbiamo rivedere un attimo La questione là davanti Perché In questo finale di stagione Castro e Novoa Sembra non abbiano mai Giocato insieme Sembra non abbiano mai Giocato insieme Dentro Valera Vai Andiamo così Carrasco Ti prego L'ha fatto brutto Come hai fatto a sbagliare Quello di prima Fare questo Mortocci Mortocci Siamo avanti Lindo Lindo Non si muove un capello Non si muove un capello Non si muove Non si muove un capello Il gelato Con un mancino spettacolare Vale a pigliare Questa brutto Cattivo Mamma Vad Come ringhi C'ha la bava C'ha la bava Vad Quando gioca Perché li abbiamo Li abbiamo inchiappettati Palesemente Ancora Rigore Tutto buono Ma Lindo Non colpisce di testa Se no Si rovina la capigliatura Occhio Mamma mia Alvarez Mi sembrava in ritardo Ma che Vad Non lo tolgo manco Se Mi sviene Quanto mi piacciono Le stecche a pala lontana Ragazzi Voi non ne avete idea Su sto gioco si stecca Che è una meraviglia Su sto gioco si stecca Che è una meraviglia Allora Iabres Facciamo mettere Molina Ma io tolgo Ria Hai visto Angulo Dai Madonna mia I filtranti Ogni volta Che ci provo Ci spero Magari cambiano Invece no Bellissima questa È bellissima Iabres È bellissima Devi solo segnare Vaffan giro Vaffan giro Vaffan giro Vaffan giro Vaffan giro Mamma mia No va Bravissimo Bravissimo Vaffan giro Vaffan giro Vaffan giro No Dai raga Che porcata Che porcata Che porcata Tenerife Riapre il discorso Qualificazione così Tempo scadutissimo Con sta porcata di gol Bobby Andiamo a giocarci subito Anche il ritorno Così sappiamo Di che morto Dobbiamo morire Alla fine di questo episodio E Alvarez Ha parato tanto Alvarez ha parato tanto Sta partita Però l'ultimo Quest'ultima qui È veramente Una schifezza Allora Offerta ritirata Preso conto Mensile Qui siamo messi Ancora così Aggiornamento Missile anche Dell'osservatore Hansen Ma ingaggiamolo Però è una bella pippa Niente Patterson Anche Lo andiamo a vedere E poi Quell'ansen Non stiamo seguendo I piani Mi dovete Puppare Mi dovete Puppare Mi dovete Dai andiamo a giocarci Il ritornino Questa volta però Formazione titolarissima Proviamo ancora Novo Castro Proviamo ancora Andiamo così signori E poi sul pezzo Forza FC Andorra Questa volta Shashu a parte Detolare Mannaggia la miseria Mannaggia Il vero problema Di queste partite È che io sono Un allenatore Molto 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 ansiolitico E dopo gioco male E dopo anche I miei giocatori Sembrano spaventati E ansiosi Innaggia la miseria Ma anche perché Sinceramente Innaggia la miseria Perché faccio ancora Ste cacate Sinceramente Secondo me Non meritiamo Di restare Bravo bad Un altro anno In serie B Eh santo cielo Per quello che abbiamo fatto Quest'anno Ma anche secondo me Per la qualità Dei miei giocatori E magari ci giochiamo Una bassa Serie A Però Tanto ce la meritiamo Secondo me Guardala E ti prego Castro Soriano Una parata irreale Ma sto portiere Ancora Castro Palla alta Questa volta Valera Andiamo noi Nuovoa 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 Lo strappo Strappo di Holland Valera Guarda al centro Chi è? Molina Soriano la lascia lì Valera la mette in mezzo Niente da fare Soriano ancora attentissimo Vad gli ha rincorsi Tutti gli ha rincorsi Uno per uno Manca ragazzi Sto tenerife È veramente Veramente Toast Veramente Veramente Toast Ci sta Ci sta Le caviglie Ci sta Le caviglie Purtroppo Basta Un gol Abbiamo preso Ancora noi Però Pastore Con l'aiuto Di VAD Dovoa C'è l'inserimento Di Castro Servito Questa volta Perfetto Non la controlla Bene Castro Prova mettere Alla in mezzo Dove arriva Lunghissima Forse la teniamo In gioco Sì Sì la teniamo In gioco Marmol C'è VAD Era di prima Mannaggia Mannaggia Alla miseria Mannaggia Mannaggia Stiamo giocando bene Raga Continuiamo così Vole andare È una roba È una roba Ma se si chiama Passaggio filtrante Mi spieghi perché Non è filtrante Ma è bensì Addosso All'avversario Non è Non è passaggio filtrante Così Occhio Pau Bravissimo VAD C'è Novoa Esterno Valera Prova ad aiutarlo Ma non si riesce Non si riesce Non si riesce A passare Bravo Alende È arrivato il momento Dei cambi Mi sa Ancora Pau Via sta palla Fuori cassa Dentro Bouchard Fuori angolo Dentro Iabres Bravo Pau Mamma mia Che partita Migliora partita Dell'anno Di Pau Bouchard Guarda Io faccio prestissimo Anche a ritoglierti Non ho assolutamente Nessun problema A fare questo tipo di azione Alvarez Olsen Da cinquesimo Una parata che vale Una parata che vale Quasi come un gol Mi dai il giocatore Per ripartire Per favore È VAD Non credo È Novoa Assolutamente sì C'è Clouchard Passala Passala Non la passa No 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 Novoa No Novoa Falla 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 Ma Novoa Porco Sio Porco Ma Porco Sio Hai fatto 25 gol In 40 Partite Ma Che cacchio Ci succede Qual è il problema Adesso Se poi questi ci fanno gol All'ultima azione Mi tira il culo Bravo Marmol Sì Ci giochiamo la liga Signori Nel prossimo episodio Battiamo il Tenerife 2-1 Risultato dell'andata Questi volevano passare Con sta prestazione Oggi Volevano passare Con sta prestazione Grande Marmol Bravo anche Pau La davanti Un po' così Un po' così La davanti Un po' così Il Tenerife si fa Un'altra bella stagioncina In serie B Non mi dispiace per niente Non mi dispiace per niente Ma neanche un po' Ci giocheremo tutto Contro la Lavess Sì Sì Nel prossimo episodio Direi che in questo Abbiamo visto abbastanza Ragazzi Spero ovviamente Vi sia piaciuto Fammi vedere un attimo Il tipo qua Della Della primavera Chiaramente un'ala Questo Hansen Vero? Sì Direi Lo possiamo Lo possiamo trasformare Per poi dargli Il Darlo in prestito Perché comunque Come overall Non è un gran che Se si fa già un punticino overall Non mi dispiace Olè Menchi c'è ancora Jacopo in squadra Pensa a te Pensa Pensa un po' Pensa un po' Signori È andata questa prima parte Di playoff Direi che ci possiamo salutare Ci vediamo al prossimo episodio Martedì Per La finale E poi Nel caso L'inizio della seconda stagione Ci vediamo alla prossima Un saluto a me Ciao a tutti ragazzi